Sì, 3 su 3 è il modo migliore per andare in semifinale, abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui, adesso aspettiamo cosa succede nell'altro girone, stiamo lavorando e abbiamo lavorato tutto l'anno per ritornare in Serie A1 e vedremo che cosa succederà, stiamo facendo il nostro massimo, stiamo dando tutto, abbiamo delle ragazze giovani che stanno crescendo bene, partita dopo partita stiamo migliorando, stiamo giocando bene e credo che queste ultime due giornate, la partita di ieri e quella di oggi, ne sono la dimostrazione, adesso testa alla semifinale e poi si vedrà. Sì, questa partita era decisiva soprattutto perché dettava le nostre sorti in queste finali, purtroppo siamo una squadra giovane, una squadra che infatti durante la partita persa in lucidità siamo entrate molto determinate e questo appunto c'è stata la possibilità di arrivare sul più 4 però poi molti errori erano decisivi e hanno appunto portato la nostra sconfitta. È andata così, non possiamo che imparare da questa esperienza e comunque ce la metteremo tutta per il futuro e per le prossime.